Momenti di paura in molte zone della provincia pesarese dove la terra ha tremato a causa di una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 che è stata registrata dall'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 12.53 con epicentro a Monte Felcino. Il sisma, che si è verificato ad una profondità di 37.5 km, è stato avvertito distintamente in tutte le marche, ma anche in Umbria e in Emilia-Romagna. Tanta gente è scesa in strada per lo spavento e subito è partito un tam-tam sui social network. Centinaia poi le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per il sisma e che l'hanno segnalato. La terra è tornata a tremare proprio alla vigilia dell'anniversario del terremoto che il 30 ottobre 2016 colpì tutto il centro Italia, provocando morti, feriti e danni ingenti. Alla prima forte scossa di oggi ne sono seguite altre con magnitudo da 1.7 a 2.7 con epicentro a Serrungarina nel comune di Colli al Metauro, una terza di 1.4 a Monbaroccio e dalle 15.07 un'altra è stata avvertita ancora a Monte Felcino. Migliaia gli studenti fatti evacuare in diverse città. Anche il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale, infatti è stato richiesto l'intervento dei tecnici per eseguire delle verifiche tra Senigallia e Cattolica, una quarantina e treni coinvolti e sette quelli cancellati. In particolare a Fano è stata data assistenza a 825 viaggiatori presenti su due convogli, sul posto anche la polizia locale. Sono in corso pure i controlli negli edifici pubblici di tutte le aree interessate dal sisma. A Monte Felcino la situazione è rimasta comunque sotto controllo. Ho visto che intorno qualcuno, i ragazzi della scuola sono usciti così, però sinceramente, ma anche i vicini di casa non è che l'hanno sentito molti. Non mi sono accorta di niente. Eppure è strano perché questo è il luogo delle vicine. E infatti tutti qui intorno se ne sono accorti, tranne io a quanto pare. Proprio non si è mosso nessun lampadario, nessun tintinnio di bottiglie, niente. Solo ho sentito il rumore, il rumore fuori. L'ho avvertito chiaramente. Io ero a lavoro, ero a scuola in Urbino e ho sentito chiaramente dondolare la sedia sulla quale ero seduto. Mi hanno chiamato perché abito a Monte Felcino e hanno saputo, hanno avuto la notizia che a Monte Felcino c'era l'epicentro e mi hanno chiamato per sapere come stessi io. L'hanno chiamata amici e parenti per sapere se stesse bene, visto che qui c'era l'epicentro. Sì, sì, mi hanno chiamato mio cugino da peso, ha detto, hai sentito il terremoto? È il terremoto? No, non ho sentito niente. Sì, 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 l'ho sentito benissimo. E cosa stavo facendo? Stavo pranzando, ero seduto a tavola, io e mia moglie non mi sono scomposto più di tanto perché ha durato 10 secondi, poco più. Dopo sono uscito, c'erano i cani che abbaiavano. Io l'ho calcolato sui 7-8 secondi, più o meno. Tante le segnalazioni arrivate anche dalla vallata del Metauro. Per motivi precauzionali, il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, ha dato disposizione di eseguire delle verifiche nei plessi scolastici. Come abbiamo avvertito queste scosse, ho dato in carico immediato al nostro responsabile dell'ufficio tecnico di fare di sopralluoghi nei vari istituti scolastici. E al momento non abbiamo ravvisato assolutamente nulla. Per quanto riguarda i plessi scolastici, abbiamo, che esistono nel Comune di Colli al Metauro, due istituti comprensivi. Uno è l'istituto comprensivo Leopardi, che fa capo all'ex municipalità di Montemaggiore e di Saltara. E abbiamo l'istituto comprensivo Bucci, che è di Monte Felcino, che fa capo alle scuole che si trovano nell'ex municipalità di Salungarina. In entrambi i casi i dirigenti hanno fatto uscire i ragazzi al verificarsi di questo evento sismico e hanno atteso che venissero a prendere e ritirare i genitori questi ragazzi o, come è successo a Tavernella, a Scuola Falcone, che terminassero l'orario delle lezioni perché eravamo in prossimità del termine delle lezioni, e quindi con i pulmini o con i genitori che sono venuti a prendere i ragazzi che sono stati fatti evacuare dai dirigenti scolastici. Ci siamo attivati per cercare di capire se ci fossero problematiche sul territorio, ma da tutti i punti di vista, sia della protezione civile, sia della polizia locale, sia dell'ufficio tecnico, non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro o di disagio su tutto il territorio. Io non ho sentito niente, non è cascato niente, nella chiesa ho guardato se c'era qualche cosa che veniva giù, ma non lo so. Hai sentito il terremoto oggi? Sì, ho sentito il terremoto a Scuola, i banchi hanno tremato molto forte. Hai avuto paura? Sì. Anche lei signora ha sentito il terremoto oggi? Sì, l'abbiamo sentito, lei è nella scuola di Montefelcino, per cui dove c'è proprio l'epicentro e l'ha sentito bene. Io invece ero a Calcinelli, sempre nello stabile comunale, sopra ci sono le scuole, e l'abbiamo sentito forte anche lì, sì. La vetrina di Dendi, Dendi, i vetri, madonna, ha durato poco, però è stata una bella scorsetta. Ha avuto paura signora? Molto, comunque qui non è caduto niente, siamo tutti salvi. Molto, così io non mi ricordo da quanto del 12 o il 16 che l'ha dato così forte, però io non mi sono alzato del tavolo, è stato 5 o 6 secondi. Grazie. 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 Grazie.